Non verrà presentato ricorso per chiedere la riammissione al campionato di Serie C e non ci sarà un seguito al progetto triennale di Paolo Montemurro alla guida della Fidelis che nelle intenzioni dell'estate 2015 doveva concludersi in maniera decisamente diversa. Ed invece l'Andria saluterà in maniera ufficiale il calcio professionistico lunedì prossimo. L'operazione Salvataggio messa in atto nei giorni scorsi dalla Fondazione degli Andriesi e dal suo garante Marco Di Vincenzo non ha sortito gli effetti sperati. Ora le attenzioni devono giocoforza concentrarsi sull'operazione rinascita naturalmente con una nuova società e con ogni probabilità con imprenditori locali. Si potrebbe ad esempio ripartire da coloro i quali avevano dato la disponibilità a salvare il calcio professionistico salvo poi scoprire una massa debitoria particolarmente consistente. Si vorrebbe ripartire dal campionato di Serie D con la richiesta di ammissione in sovrannumero che andrebbe presentata dal sindaco Nicola Giorgino. La somma d'avversaria, fondo perduto per partecipare al torneo di quarta serie e pari a 150.000 euro già ad inizio della prossima settimana, sono attesi sviluppi importanti in tal senso. E al lavoro, da alcuni giorni invece il Bisceglie che sarà l'unica rappresentante della BAT iscritta alla prossima Serie C, una delle tre realtà della Puglia insieme a Monopoli e Virtus Francavilla. Questa mattina intanto è stato ufficializzato il nome del nuovo allenatore già certo da diversi giorni. Ovvio il riferimento a Ciro Ginestra, il tecnico campano che nella passata stagione ha fatto molto bene alla guida del team Altamura. I nerazzurro stellati infine ultimeranno in giornata i test atletici Alventura. Lunedì prossimo è in programma la partenza per il ritiro abruzzese di Alfedena, piccolo comune in provincia di L'Aquila. Già fissata per mercoledì 25 luglio alle ore 18, un amichevole di prestigio con la salernitana a Rivi Sondoli.